L'uomo che ha commesso il crimine di cui sto per parlarvi è diventato per un periodo il criminale più ricercato del Giappone e per non farsi riconoscere e quindi catturare, è arrivato a commettere delle operazioni di chirurgia estetica su se stesso. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio raccontarvi la strana storia di Tatsuya Ichiashi e Linsday Ann Hawker. Due persone totalmente diverse che non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Lei infatti viveva in Inghilterra e lui in Giappone, ma per una serie di eventi, coincidenze, casualità della vita, si sono conosciuti dando vita ad uno dei casi di cronaca nera più famigerati della storia del Giappone. Prima di cominciare vi ricordo velocemente che le magliette che indosso nei video, come questa, Books Because Murder Is Wrong, libri perché l'omicidio è sbagliato, carina, simpatica, ce ne sono tante altre simpatiche del genere. Comunque le trovate sul sito web che si chiama Pumpling, vi lascio il link in descrizione. Trovate questa e tante altre grafiche per magliette, felpe, zaini, c'è veramente di tutto, quindi se vi va andate a dare un'occhiata e ricordate di inserire anche il codice Andrew per ricevere delle calze totalmente in omaggio a vostra scelta. Detto questo, cominciamo il file di oggi. Tokyo, una città che non dorme mai, una delle più grandi e popolose del mondo. La capitale del paese del Sollevante, nella sua area metropolitana, conta quasi 14 milioni di abitanti. È un perfetto mix di tradizione e modernità. In mezzo a grattacieli e alta tecnologia, infatti, si trovano templi e giardini sacri antichissimi. Eppure, nonostante la sua grandezza e l'enorme numero di persone che ci vivono, Tokyo è una città organizzata, sicura. I suoi abitanti sono cordiali. E veramente, ragazzi, è molto sicura. Cioè, lo senti proprio di non essere in pericolo mentre cammini per quelle strade. E la 22enne, Lindsay Hawker, aveva avuto la possibilità di sentire quel senso di sicurezza in prima persona. Nata il 30 dicembre del 1984, Lindsay ha passato la maggior parte della sua vita in una cittadina chiamata Coventry, in Inghilterra. La sua era una famiglia molto unita, affiatata, premurosa. Era composta dai suoi genitori, Bill e Julia, e dalle sue due sorelle. Lindsay era conosciuta da amici e famiglia per essere una persona molto ambiziosa e determinata e per avere anche in generale un grandissimo entusiasmo per la vita. Voleva fare cose, era positiva, aperta alle sfide e molto brava ad affrontarle, una di quelle persone lì. Nel 2006 la ragazza studiava Biologia all'Università di Leeds, dove si laureò con il massimo dei voti. Dopo tutta la vita passata sui libri, quindi, decise che era arrivato il momento di un cambiamento drastico nella sua vita, ma molto importante. Da quattro anni, infatti, era fidanzata con un ragazzo di nome Ryan Garside e insieme a lui, nel corso del tempo ovviamente, organizzò di fare un viaggio in giro per il mondo. Lei sarebbe partita per prima con destinazione Tokyo, e lui la avrebbe raggiunta all'estate seguente. L'unico motivo per cui lei sarebbe partita prima è che era riuscita a trovare un bellissimo e ambitissimo lavoro in Nova, una delle scuole private di inglese più prestigiose del Giappone. Tantissime persone fanno domanda per insegnare inglese in quella scuola, ma pochissime vengono effettivamente prese. E lei fu una di quelle poche fortunate, anche se in questo caso non è stata per niente una fortuna. Nell'ottobre del 2006, comunque, la giovane prepara tutto quanto, fa i bagagli e parte con un volo di sola andata per Tokyo. Un sogno che diventa realtà, peccato però che si sarebbe presto trasformato in un incubo. Lindsay, subito dopo essere atterrata, prova ad immergersi totalmente in questa nuova cultura, la cultura che trova in Giappone, e non fa per niente fatica ad ambientarsi. Capisce che, essendo in un paese totalmente diverso dal suo, avrebbe dovuto adattarsi a usi e costumi, anche perché sarebbe dovuta rimanere lì per un bel po' di tempo, prima di partire definitivamente col suo ragazzo. E come ogni sfida che le si era presentata davanti fino a quel punto, riesce anche questa volta a trovare il suo posto. Più di preciso trova un piccolo appartamento nella prefettura di Chiba, che si trova un po' fuori dal centro di Tokyo. Lì però, almeno, il prezzo dell'affitto è un po' più accessibile, ecco. Perché sì, vivere a Tokyo costa tantissimo. È una delle città più care al mondo per quanto riguarda proprio le spese della casa. E io mi chiedo sempre come cavolo facciano tutte quelle milioni di persone a vivere lì con quei prezzi. Ovvio, gli stipendi sono più alti rispetto all'Italia, ma neanche di tanto, eh. Anche perché poi tutto il resto, dal cibo ai mezzi, costa meno rispetto a qui. Ma per quanto riguarda gli affitti, Tokyo è tipo la Milano del Giappone. Quindi l'Insei si stabilisce appunto appena fuori, insieme a due coinquiline. Altre due insegnanti d'inglese, con le quali instaura subito una forte amicizia. I suoi datori di lavoro raccontano che la ragazza faceva qualsiasi cosa per adattarsi. Lavorava duramente, con impegno e dedizione, e prendeva molto seriamente il suo ruolo all'interno della scuola. Ogni giorno contattava la sua famiglia e i suoi amici in Inghilterra per raccontare loro tutto quanto riguardo la sua nuova vita a Tokyo. In una mail inviata alle sorelle, racconta come la città fosse sicura e affidabile. E specifica che trovava fosse decisamente più sicura della cittadina in cui viveva lei in Inghilterra. Perché lì a Tokyo era tranquilla anche a tornare a casa da sola a notte fonda. È una sensazione che provano praticamente tutti visitando Tokyo. Ma queste parole, scritte da Linsei, molto presto non avrebbero fatto altro che tormentare i pensieri dei suoi cari. Infatti, la mattina del 25 marzo del 2007, Linsei prende il suo materiale da insegnante, saluta le sue coinquiline e lascia l'appartamento in sella alla sua bici, come faceva ogni giorno. Peccato però che quella sarebbe stata l'ultima volta che le sue coinquiline l'avrebbero vista. Il giorno dopo, il 26 marzo del 2007, il padre di Linsei, Bill, mentre a lavoro riceve una telefonata da nuova, la scuola per cui lavorava sua figlia. E in questa chiamata lo informano del fatto che Linsei non si era presentata alle lezioni per due giorni di fila. Già la sera prima, quando le coinquiline non l'avevano vista tornare a casa, avevano contattato immediatamente la polizia. Ma per qualche motivo, l'informazione non aveva raggiunto le autorità che si sarebbero dovute occupare del caso. Perciò nessuno aveva fatto nulla. La segnalazione si era praticamente persa in un limbo di altre segnalazioni, per cui nessuno stava cercando Linsei. Una cosa veramente stranissima che solitamente non accade mai. Comunque, ascoltando la telefonata della scuola, il padre della ragazza rimane confuso, disorientato. Cioè, immaginate, non sa cosa fare, è molto lontano da sua figlia e ovviamente si preoccupa da morire, anche perché, oltre a non essersi presentata a lavoro per due giorni di fila, Linsei non stava più rispondendo alle chiamate e alle mail. Così, preso dal panico, l'uomo acquista subito dei biglietti aerei per Tokyo. Uno per lui e uno per il ragazzo della figlia, Ryan. Deve essere stato, penso, il viaggio aereo più lungo delle loro vite. Immaginate passare dalle 12 alle 16 ore in viaggio senza sapere nulla della vostra stessa figlia o fidanzata, sapendo solo che non sia presentata a lavoro e che non risponde. Deve essere terrificante. Intanto, finalmente, la polizia viene di nuovo allertata e raggiunge l'appartamento di Linsei per cercare di capire i suoi ultimi spostamenti. Per fortuna, lì trovano le sue coinquiline, che hanno molte cose da raccontare agli agenti. Alcune di queste, molto particolari e di fondamentale importanza. E già solo dopo un breve confronto con le due, inizia ad emergere una strana ed inquietante serie di eventi. Pochi giorni prima, il 20 marzo, Linsei stava tornando a casa con il treno dopo aver passato un po' di tempo in un bar. All'improvviso però, un uomo sconosciuto si è avvicinato a lei. Era un pochino più grande di lei e diceva di essere uno dei suoi studenti. Linsei però aveva un buonissimo rapporto con i suoi studenti, li conosceva tutti e sapeva che quell'uomo non era affatto uno di loro. La ragazza quindi si è scusata e ha cercato un modo per interrompere quella strana conversazione. Quindi è scesa alla sua fermata, è saltata in sela alla sua bici per dirigersi verso casa e ha pedalato tranquilla per qualche minuto. Era quasi arrivata all'appartamento quando ha notato che quello stesso uomo che l'aveva fermata poco prima era proprio dietro di lei. La stava seguendo a piedi, correndo ad una velocità spaventosa. Aveva iniziato a seguirla dalla stazione ed era riuscito a starle dietro per tutto il tragitto fino ad arrivare davanti all'appartamento della ragazza. Cosa molto inquietante perché a questo punto lei si è resa conto che questa persona strana sapeva dove abitava. Una volta arrivati lì comunque le si è avvicinato ancora e le ha chiesto nuovamente se lo riconoscesse perché continuava a dire di essere uno dei suoi studenti. Linsei a quel punto come potete immaginare era decisamente spaventata ma tentando di mantenere la calma gli ha risposto ancora una volta di non conoscerlo affatto. Dopo la risposta l'uomo le ha spiegato la situazione. Le ha detto che voleva andare all'estero ed era alla disperata ricerca di un insegnante d'inglese. Per questo l'aveva seguita fino a casa. Voleva solo chiederle delle lezioni private. Ma come faceva a sapere che Linsei insegnava inglese? È una domanda che si è fatta anche lei ovviamente ma sul momento ha cercato di non darci troppo peso. Magari aveva visto il simbolo di Nova della scuola in cui insegnava in qualche sua borsa e quindi aveva capito che era un insegnante d'inglese. Comunque alla fine lei pensa che era in Giappone magari questa persona le sembrava così tanto strana solo per via delle differenze culturali e la barriera linguistica. Questo è quello che ha pensato ma ragazzi se avete una sensazione che vi dice che qualcosa non va per favore fidatevi di quella sensazione. È quello che avrebbe dovuto fare anche Linsei. Subito dopo l'uomo infatti gli ha chiesto un bicchiere d'acqua. Era ovviamente assetato dopo aver corso freneticamente per starle dietro. Linsei allora valutando la situazione ha pensato che fosse semplicemente un ragazzo entusiasta di aver trovato un insegnante. Era un po' strano ma come vi dicevo ha pensato si trattasse delle stranezze derivate dalla barriera culturale e linguistica. Quindi alla fine Linsei ha deciso di farlo entrare nel suo appartamento. Era tranquilla perché sapeva che le sue coinquiline erano in casa. Anzi si sentiva più sicura a farlo entrare facendogli vedere proprio di persona che non era da sola, che non poteva farle del male e insomma era protetta. A quel punto l'uomo ha chiesto a Linsei se potesse fargli delle lezioni di inglese private dicendolo che l'avrebbe pagata all'ora. Le ha poi proposto di incontrarsi in un bar in maniera informale ma la ragazza ha rifiutato avendo già comunque degli orari di lavoro piuttosto pesanti. Lui però non sembrava voler accettare un rifiuto. Era innervosito e quindi le ha proposto una paga oraria di 3500 yen che nel 2007 corrispondevano a circa 22 euro. Direi una bella cifra. Una cifra anzi troppo allettante per Linsei. Erano soldi extra molto facili per lei e come ogni giovane all'estero ne aveva bisogno. Le coinquiline continuano raccontando alla polizia che Linsei finalmente ha accettato la proposta dell'uomo. Ed è stato a quel punto che lui ha tolto dalla tasca una matita, ha preso un foglio e ha iniziato a scarabocchiare qualcosa. Questo è quello che disegnò. Il bozzetto di un ritratto di Linsei firmato da lui stesso. Il suo nome, scritto accanto al numero di telefono e all'indirizzo mail, era Tatsuya Ichi Ashi. È proprio nell'appartamento di Linsei che la polizia trova quel foglietto e con quello alla mano inizia ad avere almeno una pista su cui indagare. Prima di recarsi a casa di Tatsuya, le coinquiline di Linsei raccontano anche che erano contrari all'appuntamento che i due si erano dati al bar. Ma Linsei era assolutamente sicura che non sarebbe accaduto niente di strano, niente di pericoloso. Quindi il 25 marzo, i due effettivamente si incontrano ad un bar chiamato Bar Dutor. Un dettaglio molto inquietante è l'ultimo messaggio inviato da Linsei al suo ragazzo su Facebook. Un messaggio datato 20 marzo 2007, il giorno in cui ha incontrato per la prima volta Tatsuya. In questo messaggio la ragazza diceva Tenete a mente queste parole perché una volta che conoscerete tutta la storia vi faranno davvero venire i brividi. Comunque vi dicevo, i due si vedono al bar Dutor il 25 marzo, dove vengono ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Quella che vedete è la registrazione. Finalmente quindi i due si incontrano per la lezione privata e come potete vedere dal video, Linsei sembra piuttosto nervosa. Mentre ordinano un drink, lei continua a toccarsi i capelli in continuazione. Si vede proprio che non è tranquilla in sua presenza. Nonostante tutto, alla fine si siedono in un tavolo e rimangono lì per circa 50 minuti. 50 minuti in cui la ragazza procede a fargli la lezione di inglese come d'accordi. Quando però arriva il momento di andarsene, Tatsuya inizia a frugare freneticamente nelle tasche per cercare i soldi. Assume un comportamento che definirei esagerato, accentuando ogni suo singolo movimento per far capire a Linsei che era preoccupato. In panico. Ovviamente in quel momento non riesce a trovare i soldi perché non li ha con sé e sapeva di non averli. Però dice a Linsei di non preoccuparsi. Anzi le propone una soluzione. Le dice di andare con lui nel suo appartamento dove avrebbe preso i soldi e gliele avrebbe finalmente consegnate. Lei, probabilmente sentendosi prese in giro e ferita perché comunque quei soldi le aspettavano. Cioè pensateci, già non voleva fargli questa lezione, poi gliela fa contro voglia e nervosa e ancora sto qua fa la scenetta. Insomma non accetta il fatto di non essere pagata. Non dopo una palese presa in giro. Per cui accetta di accompagnarlo al suo appartamento per recuperare i soldi e intorno alle 10 del mattino salgono insieme su un taxi per dirigersi da Tatsuya. Una volta arrivati, Linsei chiede al tassista di aspettarla per 5 minuti sotto casa, dato che avrebbe preso i soldi e sarebbe subito tornata da lui per tornare nel suo appartamento. Lui annuisce e comincia ad aspettarla sulla vettura mentre lei si dirige verso l'appartamento insieme al ragazzo. Però i minuti passano e Linsei purtroppo non fa ritorno. Il tassista allora, pensando che magari la giovane avesse cambiato i piani o volesse tornare a casa in qualche altro modo, decide di andarsene. Quello che non sapeva però è che Linsei non sarebbe mai tornata a casa. Ma quindi chi è davvero l'uomo che l'ha invitata nel suo appartamento con la scusa di recuperare i soldi? Chi è Tatsuya Ichiashi? Tatsuya nasce il 5 gennaio del 1979 nella prefettura di Gifu, dove passa i primi anni della sua vita. Nasce in una famiglia agiata e direi di successo. Il padre infatti fa il neurochirurgo in un ospedale di Tokyo, mentre la madre fa la dentista. Inizialmente Tatsuya voleva seguire le orme di suo padre e diventare un chirurgo o un medico. Per questo cerca di entrare nella scuola di medicina e ci prova per 4 anni. Ma non riuscendo a passare gli esami, alla fine decide di iscriversi alla facoltà di orticultura dell'università di Ciba. Si laurea nel marzo del 2005, ma dopo la laurea non cerca un lavoro nel suo ambito. A dire il vero decide proprio di non lavorare. Tatsuya comincia a vivere nel famigerato appartamento in cui poi avrebbe invitato Lindsay. Che era un trilocale acquistato ovviamente dai genitori che si trovava nella prefettura di Ciba. Tatsuya aveva sempre vissuto sulle spalle dei suoi e voleva continuare a farlo. Loro infatti ogni mese gli mandavano circa 100.000 yen, che all'epoca corrispondevano più o meno a 640 euro. E non avendo spese di nessun tipo, gli bastavano per vivere una vita serena e senza preoccupazioni. O almeno così sembrava. Tatsuya aveva trovato una ragazza durante l'università. E nel 2007 era ancora fidanzato con lei. Ma quelli che lo conoscevano lo descrivevano come un ragazzo solitario. O meglio come un Ikikomori. In sostanza, Ikikomori significa stare in disparte. Ed è un termine che viene attribuito alle persone che si ritirano dalla vita sociale per lunghi periodi di tempo. Talvolta anche mesi o addirittura anni. Queste persone rimangono chiuse in casa o addirittura in una stanza, evitando ogni singolo contatto con il mondo esterno. Tatsuya a dire il vero non era proprio così, ma ci si avvicinava. Aveva la passione per i manga violenti e ormai da qualche anno aveva iniziato a sviluppare dei comportamenti strani, preoccupanti. Due anni prima aveva aggredito una donna per strada, cercando di derubarla. Lei lo aveva denunciato, ma i genitori di Tatsuya la pagarono per ritirare la denuncia. Così il ragazzo non venne mai punito per l'aggressione. Inoltre, quando era all'università, aveva ricevuto un richiamo formale dalla scuola per aver stalkerato una ragazza. Tipo come aveva fatto con Lindsay. In sostanza, in quegli anni Tatsuya stava sviluppando e facendo emergere un lato molto oscuro del suo comportamento. Scusate il casino, ma c'è il mio gatto in bagno. Aspettiamo un attimo. Dicevo, nonostante questo cambiamento molto strano nel suo comportamento, molto preoccupante, nessuno se ne preoccupò. Nessuno lo aiutò e lui ovviamente non fece nulla per migliorare la sua situazione. Anche perché, stranamente, la sua ragazza ha descritto la loro relazione come stabile e seria nonostante tutti questi episodi. Ha detto anche che Tatsuya era ossessionato dall'attività fisica. Amava passare ore ad allenarsi e ogni giorno percorreva circa 20 km in bicicletta. Quello di cui non si era accorta la sua ragazza però era che lentamente la sua salute mentale stava peggiorando a dismisura. Sembrava che nessuno se ne fosse reso conto, ma Tatsuya aveva iniziato a sviluppare una strana ossessione per una ragazza apparentemente casuale, la giovane Lindsay Hawker. Secondo le autorità, Tatsuya aveva seguito e spiato Lindsay per svariati mesi prima ancora di trovare il coraggio di andare a parlarle. Aveva notato appunto il logo della scuola nuova sulla sua borsa e l'aveva quindi usato come scusa per avvicinarla, dicendo di essere un suo studente. Nello stesso modo aveva usato la scusa di non avere soldi per riuscire a portarla nel suo appartamento. E quanto è inquietante sta cosa. Non so se ci rendiamo conto, lei era stata seguita e osservata per mesi in un paese lontano da casa sua in cui si stava ambientando, in cui si stava trovando bene. Non poteva immaginarlo e pensarci è davvero bruttissimo. Comunque, dopo la sparizione di Lindsay e il ritrovamento del suo ritratto, alle 5.20 di pomeriggio del 26 marzo, due agenti arrivano all'appartamento di Tatsuya. Secondo la legge giapponese però, non possono irrompere in casa, devono aspettare che sia lui ad uscire e ovviamente lui non esce. Così, conoscendo la situazione e i precedenti, chiamano i rinforzi. Alle 8 di sera, gli agenti sul posto sono ben 9, ma continuano a bussare attendendo semplicemente che Tatsuya si facesse vivo. E due ore dopo, finalmente esce. È scalzo e ha uno zaino alle spalle. Appena gli agenti provano ad avvicinarsi, Tatsuya parte a razzo e comincia a correre all'impazzata. Uno di loro gli afferra lo zaino, ma il ragazzo molto velocemente riesce a sfilarselo e scappare dalle scale di emergenza. Cominciano ovviamente tutti a seguirlo, ma come penso abbiate capito, Tatsuya era molto allenato. E riesce a seminarli molto velocemente, confondendosi tra la folla. Tra gli agenti è subito il panico. Poco dopo il ragazzo viene nuovamente avvistato, per cui riparte l'inseguimento, ma ancora una volta riesce a scappare. Per gli agenti non c'era alcuna speranza di raggiungerlo. E così Tatsuya riesce a sfuggire alla giustizia. Per più di due anni, nessun agente sarebbe più riuscito ad avvicinarsi a lui così tanto. Intanto, nell'appartamento del giovane, la polizia fa una scoperta sconvolgente. Iniziano a dispezionare tutta l'abitazione e molto presto si rendono conto che la vasca da bagno non era dove sarebbe dovuta essere. Era stata spostata dal bagno al balcone ed era stata riempita con un mix di sabbia, terra e fertilizzanti. Nel bagno invece era presente una piccola pianta, chiaramente lasciata lì per errore. Tatsuya non era riuscito a concludere la sua opera. Nella vasca da bagno, infatti, da quello strano mix di elementi, spuntava una piccola mano bianca. Il giovane avrebbe dovuto piantare anche quell'ultima pianta lasciata in bagno, ma chiaramente era di fretta dato che la polizia era alla sua porta da ore. Più tardi, i vicini diranno che la sera prima avevano sentito uno strano rumore di trascinamento. Si trattava sicuramente del rumore della vasca da bagno che veniva trascinata in balcone. Al suo interno c'era il corpo senza vita della povera Lindsay. Era nuda, le mani e i piedi legati, e imbavagliata con una sciarpa. I lividi sul suo corpo suggeriscono che fosse stata vittima di uno scontro pesante e prolungato prima di perdere la vita. Dovete sapere che sia Lindsay che Tatsuya avevano frequentato dei corsi di arti marziali, perciò la donna si era difesa al meglio delle sue possibilità e con tutte le sue forze. Ma nonostante questo non era riuscita a fare nulla contro la forza di Tatsuya. La cartilagine nel suo collo era particolarmente danneggiata come risultato di ripetute lesioni e traumi. La sua testa era stata rasata e i suoi capelli riposti in una busta di plastica, come fosse una sorta di rituale inquietante di qualche tipo. Davvero il modo in cui è stata ritrovata Lindsay ha scioccato gli agenti. Era tutto così strano, apparentemente senza senso. Alle 3 del mattino del 27 marzo, quindi la polizia fa quella chiamata che avrebbe cambiato per sempre la vita delle persone vicine alla vittima. Il viaggio che Bill aveva organizzato per cercare sua figlia si era trasformato velocemente in un triste soggiorno per identificare i suoi resti. Ovviamente l'uomo la riconosce subito e conferma che quella era proprio sua figlia Lindsay. A quel punto genitori, parenti e amici sono distrutti e decidono di aiutare con le indagini al meglio delle loro possibilità. Da quel momento le immagini di Tatsuya e Chiashi iniziano a invadere Tokyo e successivamente tutto il Giappone. In pochissimo tempo vengono distribuiti oltre 30.000 poster che lo ritraggono in tutte le maniere possibili. Infatti, dato che nel suo appartamento erano state trovate delle parrucche e dei trucchi, vennero anche fatti dei poster di Tatsuya in versione più femminile, come vedete nelle foto. Insomma, si era preso questo caso molto seriamente ed erano tutti a lavoro per identificarlo e catturarlo. Il suo volto, quindi immaginate, inizia ad apparire ovunque, anche nei media nazionali e poi internazionali. In quel momento è l'uomo più ricercato del Giappone. Di conseguenza, tantissime persone cominciano a dichiarare di averlo visto e molti di questi avvistamenti hanno un luogo in comune, il distretto a luci rosse di Tokyo, Kabukcho. La polizia ovviamente fa del suo meglio e cerca letteralmente ovunque, ma non riesce a trovare nessuna traccia della sua presenza. L'ipotesi più gettonata a quel punto era che avesse lasciato il paese o che si fosse tolto la vita, perché era davvero introvabile. La famiglia di Linze in tutto ciò era chiaramente distrutta. Qualcuno aveva messo fine alla sua giovane vita e quel qualcuno non stava pagando per le sue azioni. Era libero da qualche parte e avrebbe potuto agire di nuovo. Dopo mesi, nell'ottobre del 2008, vengono assegnati al caso ben 140 agenti di polizia e investigatori. Ma nonostante gli oltre 8.000 avvistamenti dei mesi passati, la polizia era ben lontana dal trovarlo. Alla fine del 2008, le indagini sono in una situazione di stallo e la famiglia Walker decide di aprire un sito web per raccogliere informazioni sui possibili spostamenti di Tatsuya. Intanto, la madre del killer chiama un emittente televisivo di nome Daytime Television e lancia il suo messaggio, diretto proprio a Tatsuya. In questo messaggio, trasmesso in tv, gli consiglia di costituirsi, di contattare la polizia, e aggiunge che lei e il padre del ragazzo avrebbero parlato pubblicamente dei loro pensieri riguardo al caso anche se sapevano che lui, Tatsuya, non avrebbe voluto per niente che lo facessero. Poco dopo, i due vanno in un altro programma, sempre in televisione, per scusarsi pubblicamente per i crimini commessi dal loro figlio. Ma neanche tutto questo fu abbastanza, di Tatsuya ancora nessuna traccia. In prossimità del secondo anniversario dalla sua fuga, la polizia rilascia addirittura degli stampi in cartone di Tatsuya a grandezza naturale. Speravano che così facendo le persone si facessero un'idea più chiara del personaggio e riuscissero quindi a riconoscerlo più facilmente. Ma tutti questi sforzi non portano ad alcun risultato. Cioè, sembra che Tatsuya sia sparito nel nulla. E anzi, stava iniziando ad accadere qualcosa di molto inquietante e di cattivo gusto su internet. Nei mesi precedenti avevano cominciato a nascere sempre più fan club e forum in cui Tatsuya veniva idolatrato. Veniva glorificato per essere riuscito a scappare dalla legge, per essere un fuggitivo. C'erano persone online che scrivevano di lui come se fosse un eroe. Una persona degna di rispetto, di comprensione. Altri semplicemente lo trovavano molto attraente e di conseguenza partecipavano a discussioni online su quanto fosse ingiusto questo accanimento su di lui. Come se non avesse fatto nulla. Una cosa davvero disgustosa e che capita fin troppo spesso, questa qui. Ma comunque quello che nessuno sapeva è che in quei due anni di fuga Tatsuya era cambiato tantissimo. In effetti nessuno sarebbe stato più in grado di riconoscerlo. Tutti quei poster e volantini non servivano più a nulla. Ora devo informarvi del fatto che da questa vicenda è nato un libro che è diventato un bestseller. E si tratta di questo qua, una sorta di memoriale scritto proprio da Tatsuya Ichiashi. Nel libro e poi nel film che ne è derivato, Tatsuya racconta il modo in cui ha vissuto durante il periodo da fuggitivo. E secondo ciò che ha raccontato, questo è quello che è accaduto. Inizialmente Tatsuya girovagava per Tokyo, senza soldi, senza documenti e senza passaporto. Non poteva lasciare il Giappone, quindi si nascondeva tra i vagabondi e alloggiava nei peggiori hotel nella prefettura di Ibaraki. Non si rese subito conto della gravità della situazione. Infatti fu solo quando vide i poster con il suo volto che decise di cambiare drasticamente. Iniziò ad usare un cappello, indossare occhiali da vista e coprirsi il viso con le mascherine chirurgiche, anche più di una. Iniziò ad evitare le videocamere di sorveglianza e decise di rimanere sempre in movimento. Non contattò mai né un amico né un familiare. Restava aggiornato sulla situazione ascoltando la radio e quando poteva guardando la tv. E quando si rese conto di essere l'uomo più ricercato del Giappone, prese una decisione drastica. Realizzò che doveva cambiare il suo aspetto se non voleva che lo riconoscessero. Quindi si diede subito da fare. Usando un taglierino si tolse i nei nella guancia sinistra. Poi usando delle forbici provò a tagliarsi un pezzo di labbro inferiore per renderlo più sottile. Perché aveva le labbra molto carnose. Comunque. Mentre lo faceva dovette fermarsi perché il dolore che stava provando era lancinante. Ci credo. Immaginate tagliare il labbro con le forbici. Delle forbici normali. Come cazzo fai? Vabbè. Nonostante si fosse fermato però pochi giorni dopo finì ciò che aveva iniziato. Quindi finì continuò a tagliarsi il labbro e lo fece in un bagno pubblico. Ma quello che aveva fatto non gli bastava ancora. Quindi rese il suo naso più stretto utilizzando un ago. E qui ragazzi sinceramente non ho capito come abbia fatto. Sono abbastanza confuso. Vabbè. Mentre le ferite guarivano indossava almeno due o tre mascherine chirurgiche per far sì che nessuno le vedesse. Ed è in quel periodo che iniziò a spostarsi verso sud con autobus e treni. Iniziò a una sorta di pellegrinaggio visitando vari templi. Mise in piedi un vero e proprio itinerario che era determinato a seguire alla perfezione e poi concludere. Voleva praticamente spiare i suoi peccati. E si stava autoconvincendo che andando in quei templi in quell'ordine specifico e pregando per Lindsay lei sarebbe tornata in vita. Per questo percorso prese ispirazione da un libro nel quale i morti risorgono se qualcuno che li sta pensando visita quegli stessi templi che lui aveva aggiunto sul suo itinerario. Un libro. Vabbè. Tutto ciò comunque non bastava e Tatsuya lo sapeva bene. Iniziò ad avere sempre più episodi di paranoia e manie di persecuzione più che giustificate direi. Quindi si convinse di aver bisogno di altri cambiamenti nel suo aspetto. Questa volta con l'aiuto di un chirurgo estetico. Ovviamente non aveva soldi per ricorrere ad un'operazione chirurgica professionale. Quindi fece in modo di trovare un lavoro. E so che sembra assurdo ma ci riuscì. Era già cambiato rispetto a come era prima quindi vabbè. Oltre alle differenze nel suo aspetto usò il nome e l'indirizzo di residenza di un uomo defunto chiamato Kosuke Inoue e trovò lavoro come operaio ad Osaka dove lavorò per ben 13 mesi. In quel periodo riuscì a mettere da parte circa un milione di yen, poco più di 6.000 euro. Utilizzò la maggior parte di quei soldi per ben due operazioni chirurgiche. Una per allungare e far sembrare più stretto il naso e l'altra per alzare il ponte nasale. Ovviamente diede alle cliniche dei nomi e degli indirizzi falsi e non si presentò mai agli appuntamenti seguenti. Spari del tutto. L'ultima clinica in cui si era recato però si trovava a Nagoya e andò lì il 24 ottobre del 2009. Il chirurgo e tutto lo staff però trovarono strane molte cose. Soprattutto le sue cicatrici sulla guancia sinistra, quelle che si era procurato togliendosi i nei. Per togliersi ogni dubbio quindi lo staff contattò la polizia segnalando lo strano individuo e inviando tutte le foto scattate in clinica. Poco tempo dopo. La polizia identificò l'uomo come Tatsuya Ichiashi. Il 4 novembre del 2009 le autorità rilasciano le nuove immagini al pubblico spiegando che Tatsuya aveva subito degli interventi. Il suo nuovo volto era ancora una volta su tutti gli schermi e in ogni angolo del Giappone. Era cambiato molto ma adesso la gente poteva riconoscerlo di nuovo. Davvero? E una volta per tutte. Quando però lui stesso vide il servizio in tv con il suo nuovo volto rimase sconvolto. Non poteva crederci. Il cuore li iniziò a battere all'impazzata. Poverino. Quanto gli sta bene. Subito comunque si fece tagliare i capelli e acquistò un costume da festa per camuffarsi. Insomma. Dopodiché si diresse subito ai traghetti in partenza da Osaka. Era il 10 novembre del 2009 e Tatsuya stava per imbarcarsi nel traghetto per Okinawa. Alcune persone però, inclusi i lavoratori del porto, si resero conto che qualcosa non andava in quel ragazzo. Subito qualcuno iniziò a pensare che quello strano giovane con occhiali, mascherine e cappello fosse proprio Tatsuya. In quel momento quindi viene subito contattata la polizia. E dopo due anni e mezzo della sua fuga, finalmente l'uomo più ricercato del Giappone viene catturato e arrestato. Durante il processo, la famiglia di Lindsay insistette che venisse condannato a morte secondo la legge giapponese, ma gli avvocati dell'uomo sostenevano che Tatsuya non era un individuo di indole violenta e aveva mostrato rimorso e pentimento per ciò che aveva fatto. Ci credo, non voleva andare in prigione. Vabbè, sostenevano che dovesse rimanere in vita, valeva la pena provare a rieducarlo alla società. Durante il processo, Tatsuya ammise di aver molestato e ucciso Lindsay, ma disse di averla uccisa per sbaglio, in un tentativo disperato di zittire le sue urla che chiedevano aiuto. Ha anche detto di aver provato a rianimarla e chiamato un'ambulanza, ma di questo non fu trovata alcuna prova. All'inizio del 2011, Ichi Ashi pubblicò il libro delle sue memorie, chiamato Fino all'arresto. Al suo interno non descrive l'omicidio e né tantomeno il motivo per cui l'ha commesso. Si concentra invece a raccontare solo ed esclusivamente il suo viaggio e le sue avventure durante quei due anni e mezzo di fuga disperata. Il libro diventò un bestseller sia in Giappone che in Inghilterra, tanto che nel 2013 ne venne fatto un film, I am Ichi Ashi. Io l'ho visto. È molto interessante. Se volete guardatelo. Perché si fa capire in che stato fosse Tatsuya durante la fuga e anche la chirurgia. Guardatelo. Non vi aspettate chissà quale film, è stato fatto probabilmente con poco budget, però secondo me è riuscito bene. Perché ti fa quasi entrare nella sua vita da fuggitivo. Cioè io mi sono immedesimato molto in lui, nonostante, cioè, strano sta cosa. Di solito non riesco a immedesimarmi nei killer. Però in questo caso sì, perché hanno fatto un bel lavoro. Hanno fatto un bel lavoro. Ovviamente gli sta bene che sia stato preso, ci manca, anzi. Comunque, Tatsuya voleva che i ricavi del film andassero alla famiglia Hawker, quindi propose loro questa sorta di accordo. Ma loro non accettarono. Non volevano più avere niente a che fare con Tatsuya. Finalmente poi, il 21 luglio del 2011, la corte della prefettura di Chiba condannò Ichi Ashi alla prigione a vita per l'omicidio di Lindsay Han Hawker. Senza dubbio la storia di Tatsuya e Lindsay ci insegna una cosa molto importante. Se credete che un'interazione con una persona sia strana o potenzialmente pericolosa, se avete questo sentimento, una sensazione proprio nello stomaco, fidatevi di ciò che sentite e fate di tutto per evitare che questa interazione continui o si ripeta. Sinceramente questo caso mi ha inquietato tantissimo. E tra l'altro, raga, vi devo raccontare una cosa. Anche me è capitato di conoscere una persona a Tokyo che mi ha dato questa sensazione e che tuttora continua ogni tanto a scrivermi un po' di paura. Quindi la prossima volta che vado in Giappone faccio finta di non esistere, blocco tutto. Imparo da questa storia, non voglio fare la stessa fine di Lindsay ovviamente. Quindi che cazzo, che ansia, perché succedono queste cose? Come potete immaginare, essendomi ci anche ritrovato più o meno in una situazione, non in una situazione del genere, però questa sensazione l'ho avuto anch'io proprio a Tokyo. Mi sono immedesimato tantissimo anche in Lindsay. E quindi questo caso mi ha inquietato tantissimo. Cioè, tutto poi, dall'inizio alla fine, è estremamente losco, macabro, inquietante. Il modo in cui ha provato a disfarsi del corpo di Lindsay, il modo in cui l'ha stalkerata, il modo in cui è scappato, il modo in cui si è nascosto. Cioè, tutto, tutto decisamente angosciante. Questa storia è una delle poche in realtà che sono avvenute in Giappone. Come sapete, quelle poche che accadono lì però, sono sempre, davvero sempre le peggiori. Fatemi sapere se conoscevate la storia di Lindsay e ovviamente ditemi cosa ne pensate. A me sinceramente questa volta mi sono venuti brividi. Vi ho spiegato anche perché. Cioè, pensare di essere dall'altra parte del mondo per cambiare vita, per un viaggio, o comunque magari per aver trovato un'opportunità, che ne so, come era successo a Lindsay. E poi dal nulla succede questo. Cioè, non lo so, Lindsay deve aver provato un terrore inimmaginabile. Comunque, mentre scrivete i vostri pensieri sul caso, io vi anticipo che presto parleremo di un'altra giovanissima ragazza che, in un giorno come tanti, è caduta preda di un'altra mente malata. Una mente però questa volta curiosa, ma troppo curiosa, e verso le cose sbagliate. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di iscrivervi al canale. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. Venite anche su Instagram, fidatevi, che lì vi spoilerò cose, parliamo, facciamo i sondaggi, quando mi ricordo, e vi dico anche i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!